Vino e arte hanno molto in comune. Entrambi esprimono la cultura e la storia millenari di un popolo ed entrambi generano emozioni. Dall'incontro tra grandi artisti internazionali e il nostro vino simbolo Costasera Marone nasce Costasera Contemporary Art che vede coinvolti anche giovani artisti tramite l'assegnazione di borsi di studio. Marone nasce Costasera e a tutti i nostri nostri piccoli come un lavoro è pallone è un colore che si volete si volete e se volete come una nuova un conflito di bambino e viagraggio in una nuova con un siècle che era una nuova che era la mia come per la prima volta che fosse la prima volta e rappresenti un'ampia di un'altro nozzo. Il primo anno, il portico Marcos vuole a Brasco di Pagno, porto a porto di Pagno di Pagno alla costa di Pagno e di Pagno. Pagno significa la regione di Pagno, e la regione di Pagno. Pagno ha più tante regioni di Pagno. Questo per il piatto io ho preso a porto di Pagno. In una immaginazione di uno, ho usato con un'impiazionato con un'impiazionato di un'impiazionato. Il'impiazionato dal'impiazionato con un'impiazionato di un'impiazionato. Il'impiazionato molto forte. I hope that we can bring to the company of Italy of the Marci酒庄, we can bring to Italy to China. Grazie a tutti.